Allora, come stai oggi? Te lo fanno sempre tutti e ovviamente non mi è vero, ma è un cazzo. E come se ti obbligassero a rispondere bene? Come sto cazzo, mamma? Tutto bene? Si, ti vedo meglio anch'io oggi. Però dobbiamo ancora lavorare sulla rabbia e sull'autocontrollo. Perché sei arrabbiato. Cos'è che non ti piace quello di te? Tutto bene. Tu sei proprio. Tu non mi piace per niente. E tutto una merda. Tu credi che devi capire? Che schifo. La fuori dopo andranno gente come se fosse un bittorio. Come se fosse un bittorio. Sì, sì, sì. Ci sei? Sì, sì, ci sono. Qual era la domanda? Perché sei così arrabbiato? Non trattenere le cose dentro. Sono incazzato. Sono incazzato. Ho fai. Tu... Tu... Non preoccupare la razione che ho messo tutto. È diverso. Più cresce, più vuoi di più. E ti assicuro che non passi davanti al suo figlio di bruttà. Niva. Stai. Non mi fa arrabbiare nulla. Ti tieni tutto dentro. Dobbiamo lavorare sulle tue debolezze. Che cosa ti fa paura? Per libro. Che cosa non so far? ! usto Ogni scena, che cosa non so adesso tagge l'espotere della tenorità! ожimo.